Particolare ritrovamento nel corso del pomeriggio della giornata di giovedì nei presi della costa di Roca. Durante una passeggiata sulla scoriera un uomo si è imbattuto in deresti umani e è accaduto a Roca li posti nei presi della grotta della poesia, dove un bagnante alle forze dell'ordine ha segnalato la presenza di os e di un piede umano in evidente stato di decomposizione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della sezione di Melendugno che hanno effettuato i rilievi del caso. L'ipotesi più plausibile è che si possa trattare di resti di qualche migrante che ha perso la vita nel canale d'Otato nel tentativo di raggiungere le coste italiane e che la corrente ha portato parte dei suoi resti sulla costa di Roca. Adesso le indagini sono coordinate dal PM di turno Maria Consolata Moschettini che dovrà chiudere una vicenda che però sembra avere un macro e epilogo.